La cosa che ci è piaciuta di più è mettere insieme la rete delle associazioni, le istituzioni, strutture come queste, come Euroma2, proprio per promuovere la cultura dell'associazionismo di base. Ci sono migliaia di ragazzi, di bambini che tutti i giorni si impegnano e noi vogliamo farlo insieme. In un'epoca in cui ci sono meno risorse, se riusciamo a fare rete è molto meglio. Se pensiamo che questo mondo può essere proiettato anche alla candidatura olimpica di Roma 2024, stiamo costruendo tutte le condizioni per fare bene.